2022 è un anno storico per la Calcio Chieti che festeggerà i cento anni. Il presidente del comitato organizzatore Stefano Marchionne ha avvocato. Allora, cominciamo a perorare una causa molto importante. Speriamo che non sia una causa persa. No, è una causa in cui crediamo, crediamo fortemente, tant'è che con un gruppo di altrettanti tifosi nero-verdi, siamo dieci che formiamo il comitato, abbiamo deciso di intraprendere questa strada per rendere onore e merito a questo primo secolo di vita della Calcio Chieti. Un appuntamento al mese perché, nonostante le ricerche storiche che abbiamo effettuato, sia all'archivio storico del comune che all'archivio di Stato, non siamo stati in grado di reperire una data ufficiale nella quale è stata costituita la Calcio Chieti. Sappiamo soltanto l'anno di nascita, il 1922, e quindi unitamente agli altri promotori abbiamo deciso di organizzare per tutto il 2022 delle manifestazioni e quindi spalmarle per tutto l'anno prossimo, almeno una manifestazione al mese. Ce ne puoi fare una sintesi essenziale, cioè almeno gli appuntamenti più importanti e più rilevanti a partire da gennaio? Sì, inizieremo l'8 gennaio con due manifestazioni nello stesso giorno. Il primo faremo una cerimonia per l'inaugurazione di una targa commemorativa del centenario dedicata a tutti i tifosi, a giocatori e dirigenti che in questo secolo di vita si sono alternati alla guida della Chieti Calcio. A fine gennaio organizzeremo una conferenza sulle origini dei nostri colori, sul perché il Chieti Calcio è nero verde. Poi a fine febbraio faremo una manifestazione dedicata a noi tifosi, quindi racconteremo l'evoluzione del tifo nero verde partendo dal campo in terra battuta della Civitella fino ai giorni nostri e a marzo invece organizzeremo una serata dedicata a dirigenti e presidenti che sono alternati alla guida della società in questo primo secolo di vita. Mi preme precisare che a ogni evento abbiamo pensato di abbinarci una mostra. Gli eventi si terranno al Teatro Marruccino e le mostre le allestiremo qui nel foyer del teatro. Quindi a fine gennaio allestiremo una mostra con le magliette storiche della Calcio Chieti. A febbraio una mostra fotografica sulla curva e sui tifosi nero verdi e a fine marzo allestiremo una mostra dedicata ai trofei che in questo secolo di vita ha vinto la Calcio Chieti.